Un appuntamento importante che determina una ripartenza con tutti gli auspici di una buona stagione estiva, di una buona stagione turistica. Abbiamo deciso di ripartire dalla città di San Francesco di Paola nel luogo simbolo della fede ma nel luogo simbolo di tutta la Calabria, dei calabresi che è appunto il santuario di San Francesco di Paola. Un saluto e un ringraziamento all'amministrazione comunale, al signor sindaco, al neopresidente della Proloco di Paola che ha voluto ospitare questo primo incontro proprio per pianificare una serie di interventi determinando appunto le vacanze sicure e le vacanze nel pieno rispetto appunto delle regole e di tutte le prescrizioni. Si parte da Paola, toccheremo altri territori della provincia di Cosenza affiancando quella che è la logica dell'Umbri ma affiancando quelli che sono gli indirizzi del presidente regionale dell'Umbri. Un ringraziamento ovviamente a tutti coloro che hanno e contribuiscono a questo programma di coesione ma a questo programma dove vede appunto tante organizzazioni insieme al fine proprio di instaurare un rapporto di sinergia e un rapporto ecco di una programmazione partecipata dove vede al centro quelle che sono le specificità territoriali ma anche quelle che possono essere e devono essere appunto gli indirizzi di sviluppo territoriale e di sviluppo turistico. Grazie 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 Grazie